Il tempo di oscurità e incertezze per la pandemia appaiono diversi luci di speranza come le scoperte dei vaccini no questo è un monsignore paraguliano ero giovanna d'arco in una mia vita precedente io non ho mai provato un rano la causalità azione reazione causa ed effetto la possibilità di essere un matico il giudice non è un matico il giudice non è un matico il pop è un matico il pop è un matico i pop è un matico convertitevi una volta verrà il giudizio di dio e io sono il diavolo io non ho mai provato un rano la causalità la troia è mia chiavami 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 la scelta è solo un'illusione creata e posta tra chi ha potere e chi non ne ha che sopproccio io avevo sempre pensato da quando era ragazza aveva queste tendenze giocavo con le bambole brutto com'è giocavo con le bambole eh sì erano questo è un locale frequentato da gay no, andravano tutti gay due, due gay anzi tre, quattro una flotta di gay che sono entrati nel locale che è finocchio e finocchio dalle il cazzo vecchio pompinaio stupratore di tua madre ficca io le le domani ripeteremo il successo è ancora mezzo e mezzo metà marchese metà carbonaro questo è del carbonaro adesso andate bene tutti sparite non me rompete più i coglioni perché io voglio dormire ecco aspettaremo ci c'erano c'erano ci c'erano